Un po' di attenzione, è arrivato il momento clou della serata. Proviamo la nostra... esuberante... Allora io all'inizio ho visto che portavano sto mazzo, dico ma chi d'ha fatto sto mazzo? Invece era per me. Grazie. Loro dicono un ringraziamento alla nostra Presidente di essere attiva e sociale. Un saluto dal direttivo. Grazie. Grazie assai. Grazie. Grazie. M'hanno fatto sto mazzo, hai visto? Grazie. Una bottiglia, pure attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.